Dopo il malcontento dei commercianti e degli artigiani espresso nella riunione della scorsa settimana ospitata nella sede della CNA, arriva la presa di posizione di Angelo Biondi, primo candidato ufficiale alla poltrona di sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Il comprensibile malcontento sulle gravose aliquotetari manifestato nei giorni scorsi dai responsabili locali di CNA, Fenapi e Confcommercio, così come altre problematiche oggi alla ribalta dell'attenzione pubblica, scrive Biondi, non possono non essere temi rilevanti nel confronto e nel dibattito fra le aggregazioni politiche che a breve si proporranno per la guida della città. Biondi scende poi nel dettaglio specificando come condivido totalmente le preoccupazioni all'allarme lanciato dai nostri commercianti, artigiani ed esercenti sull'insostenibilità di una tassazione così alta. Le realtà imprenditoriali licatesi, già in gravissima sofferenza per tante altre ragioni, non possono essere gravate da un'imposta calcolata sulla base dell'abnorme costo raggiunto oggi da uno scadente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre che su dati carenti e poco attendibili. La ricetta dell'ex sindaco per uscire da questa situazione si riferisce all'adozione di un modello di raccolta e smaltimento rifiuti in grado di coniugare due obiettivi fondamentali, forte abbattimento agli attuali costi e una crescita costante della qualità del servizio. Ci adopereremo con vigore, conclude Biondi, coinvolgendo i comuni dell'Interland per ottenere la riapertura della discarica comprensoriale di Campobello di Licata, condizione basilare per riuscire ad abbassare in modo consistente l'attuale elevato costo per il trasporto dei rifiuti in discariche lontane particolarmente onerose.